Sulla finanziaria abbiamo trovato un percorso condiviso nella riunione con il Ministro Tremonti, ad affermarlo il capogruppo della Lega Nord alla Camera Roberto Cota, che sottolinea come da parte di tutti ci sia la consapevolezza che è finito il tempo delle finanziarie dove in Parlamento si contrattava come al mercato, infischiandosene del debito pubblico. Ora invece c'è senso di responsabilità e voglia di discutere a sicura cota. Il punto della situazione è stato fatto questa mattina nel corso di un vertice tra maggioranza e governo. alla presenza del Ministro dell'Economia Tremonti. Obiettivo? Individuare la strada da seguire e scongiurare il voto di fiducia. Ipotesi questa rispetto alla quale nei giorni scorsi si erano espressi negativamente sia il Presidente della Camera Gianfranco Fini, sia lo stesso Presidente della Commissione Bilancio Giancarlo Giorgetti. Per ora dunque niente ricorso al voto di fiducia. Porte aperte invece alla discussione parlamentare attraverso un confronto con l'opposizione e all'esame di eventuali emendamenti, purché pochi e ben mirati.